I ragazzi della Rosa Bianca hanno lasciato un ricordo indelebile nella nostra memoria grazie a un film che una decina di anni fa ne ha tratteggiato il coraggio e la forza e in un momento in cui fare il contrapunto o contestare il potere era davvero difficile se non impossibile. Potrebbero essere ancora oggi un esempio a cui guardare quando ci si lamenta addirittura della censura sui social network, pensare a quello che hanno avuto il coraggio di fare questi ragazzi dovrebbe essere oggi uno stimolo serio e forte per raccontare e testimoniare invece ciò che è doveroso fare.